Ed eccoci qui in un nuovo video di preparazione all'asta del fantacalcio Oggi andiamo a gestire un'altra patata bollente al fantacalcio E sto parlando di Vlatan Ibrahimovic È da prendere all'asta del fantacalcio 2022? Prima di rispondere a questa domanda ti chiedo di iscrivervi al mio canale Se ancora tu non l'avessi fatto qui si parla un sacco di fantacalcio e calcio in generale Con l'arrivo del campionato torneranno le live reaction alle partite Ogni weekend andremo a seguire una partita di Serie A insieme Non saranno sempre le stesse squadre Cercheremo di cambiare ogni volta per cui viviti il campionato con me E se ti va cercami su Instagram Fantagol underscore real Ora andiamo a vedere Vlatan Ibrahimovic È da prendere all'asta del fantacalcio? Ibrahimovic come tutti sappiamo è la punta di diamante della formazione di Pioli Quindi del Milan Ha sempre avuto un altissimo rendimento a discapito dell'età Quest'anno timbra le 40 a primavere Ed è sempre stato l'uomo immagine del Milan Io chiaramente non discuto le qualità tecniche di Ibrahimovic Ho dei forti dubbi sulla sua tenuta fisica Se l'anno scorso lo consigliavo come un top assoluto del fantacalcio Quest'anno se hai visto il video dove vado a dividere tutti gli attaccanti Per fasce di appetibilità l'ho messo addirittura in terza fascia Quindi un attaccante sotto i 15 gol 310-15 gol Ma adesso andiamo prima a vedere i numeri di Vlatan Ibrahimovic Ora si fa presto a dire attaccante di terza fascia Ma i suoi numeri sembrano darmi palesemente contro Infatti se noi andiamo a vedere Partiamo dalle stagioni con l'Ajax Escludiamo quelle al Malmo dove comunque ha bollato discretamente Allora la primissima stagione 6 gol Stagione 2002-2003 13 gol idem la stagione successiva Poi in agosto del 2004 è stato ceduto alla Juventus E lì aveva già fatto 3 gol in 3 partite Nella Juve Prima stagione di Serie A 2004-2005 16 gol in 35 partite L'anno dopo soltanto 7 gol per lui Seguiti poi dalla clamorosa retrocessione in B Della Juventus, Calciopoli e quant'altro Dopo è passato all'Inter 2006-2007 15 gol in A In 27 partite Guardate che il numero di partite non sono tantissime L'anno successivo 17 gol in 26 partite Poi l'anno in cui è riuscito a farle praticamente quasi tutte 35 partite e 25 gol In Serie A sempre Dopodiché passa al Barcellona Nel Barcellona non si è trovato tanto bene Come tra l'altro ho descritto anche da lui nel suo libro Che se non hai letto ti invito a leggerlo Trovi anche il link qui sotto per andarlo a vedere su Amazon Perché è veramente veramente molto bello È ancora attualissimo E parlava del suo rapporto burrascoso con Guardiola Di tutta la sua carriera Il passaggio all'Inter Il passaggio alla Juve e quant'altro Veramente molto interessante Te lo linko qui sotto Io l'ho letto tutto È fantastico Comunque dicevamo Nel Barcellona 16 gol nella stagione in cui non è andato bene Dopodiché è passato al Milan E qua al Milan si era trovato bene 14 gol nella sua prima stagione Nel 2010-11 Nel 2011-2012 invece ha fatto ben 28 gol Che per ora è il suo record di gol nel nostro campionato Dopodiché il passaggio al PSG postilla Le difese in Francia sono inferiori alle nostre Tra l'altro in quegli anni ancora di più Perché parliamo di quasi dieci anni fa Quindi 2012-2013 30 gol per lui L'anno dopo 26 gol Poi 19 gol Fino a che non arriviamo al 2015-16 38 gol in Ligue 1 38 gol in Ligue 1 Mica male La stagione successiva vuole raggiungere il suo amico Mourinho E fare un'esperienza nuova in Premier E qui nel Manchester United fa 17 gol in 28 partite L'anno successivo un po' di infortuni Solo 5 presenze per lui E poi decide di passare in MLS Qui la sua carriera nel calcio che conta sembrava finita E in America come vedete ha fatto 22 gol nella sua prima stagione La stagione successiva 30 più 1 Ma ora quello che ci interessa a noi sono questi numeretti qua I numeri con la maglia del Milan E guardate qui Prima stagione 18 presenze per lui 10 gol Seconda stagione 19 presenze per lui 15 gol Bei numeri Bella media realizzativa Ottima media realizzativa C'ha quasi un gol a partita Nella sua seconda stagione Nella prima stagione aveva quasi un gol ogni due partite Però c'è un problema ragazzi Se è normale che nella sua prima stagione Ha fatto 18 presenze nel Milan Perché è arrivato a gennaio L'anno successivo Quindi l'anno scorso Ne ha fatte soltanto 19 Ha avuto un rendimento altissimo Nella prima parte di stagione Da top assoluto D'attacco Veramente da top assoluto Perché lui praticamente Quei 15 gol li ha fatti tutti Andare fino a gennaio Tanto che io lo avevo in un fantacalcio mantra Avevo pure preso la sua maglietta Ragazzi Dal sito calciostore24.com Una maglietta così Senza personalizzazione Costa 26 euro Con la personalizzazione Con il nome e numero Originali Del Milan Di Ibrahimovic Costa 31 euro Quando l'ho presa io E' un'offerta 27 Ogni tanto ci sono queste offerte Sul sito calciostore24.com Con il codice sconto Gol Gol con la A Le pagherai il 15% In meno Quindi una maglietta da 26 euro Ti passa a 22 euro E invece quella con la personalizzazione Ti passa a poco più di 26 euro Per cui Vai a farci un salto Calciostore24.com Ricordati il codice sconto Gol E dicevamo Su di lui pesano gli infortuni Io Il forte dubbio che ho su Ibradi Quest'anno E' la sua propensione agli infortuni Secondo dubbio C'è anche il fatto che Probabilmente non sarà più lui rigorista Per cui Se l'anno scorso Era un top assoluto Perché Doveva essere lui rigorista Titolare nel Milan Che aveva un buon attacco Comunque aveva diversi giocatori Che gli davano tanti palloni Quest'anno C'è il problema che Ti parte già infortunato Non sarà più rigorista Per questo Io l'avevo messo in terza fascia Secondo me Ibra Difficilmente arriverà ai 15 gol Arriverà un po' sotto Parte già infortunato Probabilmente Tornerà a pieno ritmo Diciamo Da metà settembre Primi di ottobre E poi c'è anche Giraud Tra l'altro su Giraud Ho fatto un video A parte Proprio su di lui Dedicato a lui Se vuoi vado a ripescare Nella playlist che trovi qua sopra Sulla guida All'asta del fantacalcio 2022 Cosa mi aspetto Realmente io Da Ibraimovic Quest'anno Io mi aspetto Più o meno Tra le 20 E le 25 Presenze per lui Mi aspetto Un rendimento Sui 12-13 gol Più un paio D'assist come quelli che fanno Valmente la stagione Quanto pagare Zlatan Ibrahimovic al fantacalcio Io su Ibra quest'anno Non ci spenderei più di 70 crediti Su una base di 500 in 8 partecipanti 70 tra i 70 e gli 80 crediti Quindi diciamo intorno al 15% del budget Tra l'altro ringrazio l'iscritto che mi aveva consigliato di dare anche una percentuale Effettivamente è molto più facile fare i calcoli con la percentuale Per chi magari non fa l'asta in base a 500 È da prendere Ibraimovic al fantacalcio? Secondo me è da prendere per ricoprire il terzo barra secondo slot del nostro attacco Però c'è un però Va preso in accoppiata con Giroud Giroud che però non sta segnando molto Perché va preso in accoppiata con Giroud? Va preso in accoppiata con Giroud Per avere di sicuro la punta titolare del Milan E Giroud su Giroud secondo me possono partire un'altra quarantina di crediti Quindi diciamo un 7-8% del budget Ciò nonostante sono sicuro che Ibra andrà via a di più Della percentuale che avevo detto Secondo me Ibra per il nome che ha Per chi è eccetera Potrebbe finire anche fino ai 100 crediti Quindi anche fino al 20% del budget E secondo me non ne vale la pena Perché per la stessa cifra forse anche qualcosina in meno Potresti prenderti un Insigne Che ha un rendimento probabilmente maggiore Tra l'altro Napoli che è fuori dalla Champions Giocherà l'Europa League Europa League che è più leggera E ti darà modo di dover fare meno turnover Ricordiamoci che il Milan è in Champions quest'anno Quindi ricapitolando Ibra da prendersi Se lo paghi il giusto prezzo Quindi arrivi massimo a quella cifra che ti ho detto Se prendi anche Giroud E se lo consideri diciamo un tuo secondo Barra terzo slot più terzo E capisco che è una cosa fuori Pensare che Ibra sia il tuo terzo slot Per il prezzo a cui andrà via Quindi in un Fanta 6 puoi andarci su tranquillo In un Fanta 8 o ancora peggio a 10 Fai fatica a puntarci con decisione Consigliato? E dicendo questo Chiedo scusa al Dio Ibra Ora ti chiedo Lasciami un commento qui sotto Per dirmi cosa ne pensi tu di questa mia analisi Cosa ne pensi di Ibrahimovic Che rendimento posso avere quest'anno E se lo punterai al Fanta Calcio Se questo video ti è piaciuto Ti chiedo di lasciarmi un bel like Di iscriverti al mio canale Se ami il calcio e il Fanta Calcio E ti ricordo l'appuntamento del 19 agosto O.R.16 con l'asta del Fanta Calcio YouTube Italia Live Una vera asta Dove andremo a contenderci Tutti i giocatori della Serie A Cercando di comporre la migliore rosa possibile E in più potrai chiamare anche tu Dei giocatori facendo delle donazioni Che andranno agli insuperabili E che ti permetteranno di partecipare A un ricchissimo giveaway Ciao e buonassero del Fanta Calcio a tutti Ciao e buonassero del Fanta Calcio a tutti Ciao e buonassero del Fanta Calcio a tutti